Anche perché dovete sapere che lui di giorno, il cantantelicio di giorno, fa un altro lavoro, dà la voce all'autoscontro. E' quello che diceva. Forza, bambino, prendi il codino. Anche tu, bambina, prendi il codino e lascia quello del bambino. E allora questa sera siamo qua, adesso divento cantante di Dice, e dico, benissimo. E questa sera siamo qua allo Studio Z, la più grande discoteca della Lombardia. Io ho i frangorossi, i corsari della Polca, il mio gruppo, a cantarvi una bellissima mazzurca, tratta da mio LP, CD, Cassetta, che si titola Gente del mio paese. Ricordandovi che nel liscio si canta tutti insieme l'ultima parola della prima frase per cominciare la seconda. Ma soprattutto nel liscio, quando il cantante dice grazie, parte l'applauso. Facciamo partire la base e facciamo una prova. Uno, due, tre, grazie. Anche la base. Un saluto al pullman di Mara Calagonis, che è venuto a ballare qui questa sera. Un saluto a Giovanna, la tigre del ribaltabile. Se volete ballare qua davanti, un ballo, un euro, cinque balli, cinque euro. La gente del mio paese Paese che al sabato sera vuol fare l'amore. L'amore, l'amore, l'amore tutti insieme, vai. L'amore, l'amore nel mio paese, grazie. La gente del mio paese, il mio paese che al sabato sera vuol fare l'amore. Grazie, arrivederci. Andiamo con le dediche. Dedicato da Giuliano di San Donato a Donato di San Giuliano. Dedicato da papà Cristoforo, le tre figlie, Nina Pinta e Santa Maria. Grazie. Mi raccomando non andate via perché dopo ci saranno spaghetti alla puttana. fresca per tutti. Signore, siamo già d'accordo noi due. Grazie. Meravigliosi.